Buonasera, questa sera faremo una tartare di tonno con avogato. Abbiamo due etti di tonno abbattuto a meno 20 gradi per 24 ore, la nostra pescheria ha 7 mari di 7 bagni, poi abbiamo un emulsione di olio extravergine e limone e un avogato maturo al punto giusto, trasportato via aerea, procediamo a capare il nostro avogato, leviamo il nocciolo e lo sbucciamo. E' un frutto che fa bene, va benissimo all'intestino, a differenza dell'altra frutta non è ricchissima di zuccheri dannosi ma è molto proteico. ecco qua, ora faremo una dadolata. ecco qua. Noi naturalmente lo taglieremo tutto, poi ci ripuliamo in base anche al nostro tonno. guardate che spettacolo, che tributo di colori! qui aggiungeremo un po' di succo di limone, e poi aggiungeremo l'emulsione di olio extravergine e limone. Invece nel nostro tonno metteremo l'emulsione di olio extravergine e limone. aggiungeremo un po' di sale, poco di limone e un po' di pepe. mettiamo un po' di pepe anche nell'avocado e facciamo marinare per circa 10 minuti e un quarto d'ora. aggiungeremo un po' di olio anche al nostro avvocato. ecco qui, e dopo monteremo la nostra tartare. montiamo la nostra tartare di tonno usando un coppapasta che ungiamo leggermente all'interno. ecco qua. mettiamo il nostro tonno marinato. facciamo uno strato di tonno. facciamo un po' di pressione. mettiamo il nostro avvocato. sempre facendo pressione. e poi facciamo un altro strato di tonno. e poi facciamo un altro strato di tonno. facciamo un altro strato di tonno. guardate che è dato lato. spettacolo vero. ecco qua. che ne pensate? guardate che spettacolo. spettacolo vero. grazie. Então.